Zona arancione progorogata per Caltanissette Gela fino al 26 di gennaio, sono in tutto 125 le città siciliane in zona arancione. In realtà per chi ha il Green Pass per la zona arancione non cambia nulla, ovvero con l'esibizione del Super Green Pass si può fare tutto. E con il Green Pass base si può accedere ai luoghi di lavoro. Obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso, da oggi entra in vigore l'esibizione del Green Pass base per accedere ai centri estetici e nelle parrucchierie e nei barbieri. Il Presidente della Regione Siciliana ha disposto l'abrogazione a partire da oggi dell'articolo 2 dell'ordinanza numero 1 del 7 gennaio 2022, ovvero la norma che prevedeva per l'appunto la possibilità di sospendere le attività didattiche in zona arancione. In una nuova ordinanza firmata da Musumeci, l'articolo 2, il Governo regionale, rimanda all'applicazione della legge 111 2021, dove si parla solo di zone rosse per far scattare la chiusura delle scuole.